Ma corvo? Ma corvo? Non ho ancora parlato, non ho preferito parola, però da quello che vedo, dal monitor di servizio interno, do una valutazione che ho detto è seguito. Praticamente ti sei già arrapato, praticamente ti sei già arrapato. Ho detto, rispetto a quei cialtroni miserabili che in genere porti all'interno della Radio24 a Milano, vedo che questa volta è una persona che non si è spogliata, non è coi capelli spogliati, è una persona che mi sembra per bene, ben vestita e regiante. Vedrai che per i tuoi parametri ci ripenserai, perché questa persona qua, innanzitutto fa la sales manager, che vuol dire direttore vendite, direttore vendite, però di che cosa? Lei prima mi ha detto spiritosamente di sti cazzi, sostanzialmente fa direttore vendite di un'azienda che produce soprattutto giochi, sex toys, e mi ha portato alcuni prodotti. E' la Marchetta di Cruciani, non è la Marchetta, è che è un'azienda all'avanguardia, dimmi, è vero, non mi hai portato nulla in regalo, dimmelo, tranne un salame che non c'entra niente perché lei è di piacenza, anzi ha qualche legame ce l'ha, però un salame vero e proprio, non c'è nessun regalo, anche perché sono prodotti di un certo costo. Però la cosa che più mi attreve era, diciamo, il prodotto di punta che è stato preso in... Esatto, ti prego, ti prego, mettilo in moto, mettilo in moto, mettilo in moto, e ragazzi abbiamo qui un succhiacazzi, ve lo devo dire? Cioè uno può mettere il pisello dentro questo cilindro, dentro questo cilindro, e sostanzialmente invece della bocca della donna, caro David... Evviva, che ti devo dire? Evviva, che ti devo dire? Il mondo va avanti, il mondo va avanti, con il telefonino che hai messo in moto. Esatto, si può mettere in moto in due modalità, o in automatico, quindi, scusa, digitale, quindi lo gestisco direttamente dall'apparecchio, oppure tramite un'applicazione e vado a gestire. È difficile, uno sta lì e mette l'applicazione, mentre stai lì, con l'applicazione vai, mettilo in moto un attimo, questo è il rumore. Ma è un frullatore, tu metti dentro, metti dentro, in questo caso, metti dentro. Quando fai la minestra, senti come cambia il rumore, metti dentro... Un minibimer, brava esatto, esattamente, ricorda quello. Va bene, va bene, questo qua è un succhiapiselli, detto in maniera... Ma te abbiamo capito, viva e ognuno fa quello che vuole, viva. Però posso dirti una cosa? Quanto costa sto attrezzo, sta roba qua? Quanto costa? 150 euro? Quanto costa 189? 189, ora uno, ora vi devi displicare una cosa, però con tutto il bene che posso volere... Uno lo ammortizza in un po' di mesi lo ammortizza. Con tutto il bene che posso volere a queste attrezzi, a queste cose, all'evoluzione dell'erotismo, va bene tutto, siete grandi, eccetera. Però perché un tizio, un essere umano dovrebbe comprarsi una roba che tu metti dentro il pisello, dentro questo appare, tra l'altro... Provalo, provalo in diretto, bellissimo, dai, ma provalo in diretto, ascolta se lo fai, dai, bellissimo! Andando a frontiera, provare tutto, non puoi provare agli altri, dai! Per le misure maxi non va bene, però... Forse è un po' ridotto, però stimola sicuramente, comunque, dalle glande a buona parte del pena, anche se non lo inserisco tutto... Una misura maxi non c'entra qua dentro... Una misura maxi magari non entra anche... Non è il tuo problema, non ti preoccupare, non ti riguarda... Fermi tutti, troppo po' torniamo... E non riguarda nessuno della redazione, andate a quel paese... Fermi tutti, troppo po' torniamo, troppo po' torniamo... Non riguarda nessuno... La zanzara Le donne dicono, sti uomini che tenne le barbe, no? Sa credere che quella è virilità, ma quale virilità? Là ci vuole la nerchie, non la barbe, ci vuole la nerchie, che le barbe! Quale virilità? Alla fine, la prova della verità è sempre la nerchie! Lo senti questo rumore, Davide? Lo senti? È un frullato, è un frullato di banana Allora, se io metto dentro questo succhia piselli, che è un nuovo prodotto di una zanzara, che si chiama Lelo, presentato al Pitti di Firenze qualche giorno fa Al Pitti Uomo? Al Pitti Uomo di Firenze, aveva uno stand, se io metto dentro il dito, perché non posso mettere dentro, ovviamente, eccetera Si arriva fino in fondo, dove dovrebbe arrivare il glande, giusto Manuela? Sì, va a stimolare il glande e il frenulo Va bene, è vivo Va a stimolare il glande e il frenulo, così funziona È vivo, è vivo C'è una specie di... Sembra, è un rumore infernale, proprio, un rumore anche fastidioso Uno deve mettersi anche i tabi per le orecchie, però, perché la roba... Ma una volta che è pieno fa poco rumore, eh? Signora Però, scusa un attimo, posso dirti una cosa? Te il frenulo non te ne frega niente, la stimolazione del frenulo Dice a me, caro Beh, sì, certo Se tu mettessi... No, ma io non voglio ammettere niente Io pratico le cose antiche, come direbbe Salvini Ci vogliono togliere i nostri antichi rapporti Mi spenga per favore questa cosa infernale Mi spenga questa cosa anche... Mi spenga per favore questa cosa infernale, ci vogliono portare via il Natale Le nostre tradizioni E in questo caso? Le nostre tradizioni sono altre Io ho altre tradizioni Ma non è che dico che c'è l'invasione degli oggetti Ma il mondo va avanti però Ma benissimo Per esempio, ti faccio vedere una cosa Qui c'è ovviamente, questa azienda produce anche... Il kit avete portato No, questa azienda produce anche un succhia critoride Questo l'abbiamo già parlato È una variazione del vibratore È una variazione del vibratore È una cosa completamente nuova che c'è da un paio d'anni ma va a stimolare... Scusi, ma tu le usino queste cose? I tuoi prodotti le usi? Non tutti, ma sicuramente questo sì, anzi C'è tanta roba Ah, tanta roba il succhia critoride? Sì, sì Cioè l'hai applicato su di te? Certo È viva Tu sei sposata, fidanzata, che sei? Sono separata, divorziata Beh, amica mia! Separata, divorziata, queste cose proprio... Però in realtà non c'entra Perché anche le persone che stanno insieme, sposate, eccetera Anche nei conventi È una variante Una variante Però tu le usi regolarmente Succhia critoride o le usi regolarmente? Sì, assolutamente Produce piacere o no? A me sembra una follia Sinceramente, posso dirti Usare per una donna, usare un succhia critoride In realtà va a stimolare l'80% della critoride Che è critoride, labbra, grandi labbra La parte interna, il punto G Quindi in un unico momento vado a stimolare tutto Ma lo fai con un partner ero da sola soprattutto No, dimmi la verità Si può usare col partner Sì, si può usare Però tu come lo usi? Io devo dire che a volte magari sono un po' lunga E quindi quando sono col partner Dopo magari un po' E dico sei pronto Dopo lui che non ci riesce a farti venire Diciamo in realtà Attacchiamo il succhia critoride Sera con il del partner Evviva Evviva C'è un'altra cosa che voglio fare Prima di congedare questa meravigliosa signora Che spero che torni qui da noi Signora, ragazza In realtà avrà meno anni di me sicuramente C'è una cosa incredibile Tu vedi, puoi vedere Ovviamente le persone che sono collegate Non possono vedere C'è una specie di affarino Che sembra il vestito di un cameriere Uno smoking 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 Sera che cosa serve questo qua No no idea Per metterselo sul pisello Per metterselo sul cazzo Che sta lì e mette lo smoking Cioè devi pensare Per lo smoking Per il pisello Io lo trovo eccezionale Adesso questo me lo faccio regalare Voglio lo smoking Per il pisello Ma tu non ti lavi neanche i capelli E ti metti lo smoking Per quell'annese lì Ma che senso ha Dai notte quel paese Grazie, grazie, grazie Marbella Ciao, grazie Ciao, ciao Questa è andata a pisciare Che ha fatto? Gli scappa la pipì alle 20 e 41 È incredibile Alle 20 e 41 Gli scappa la pipì E Gidio da Lecce Vai, E Gidio Ok Dimmi, dimmi Certo che quanto riguarda intelligenza Rocco lascia un po' desiderare Cioè? Che fa dire Vecchio, vecchio Ma gli bastava rispondere Giovane, io lo sono stato Non so se tu Sarai vecchio Punto Ma non ho chiamato per questo Volevo fare Una tiratina di orecchie Al nostro Carissimo amico Per me è un amico Ho seguito la casiera No, Giuseppe Anche tu sei amico Ci terrei dare Una tiratina di orecchie Apparenza Se mi consiede Sì, sei andato in bagno È andato in bagno Che cazzo ti devo dire Improvvisamente è andato in bagno Si è alzato Lo vedo qui dal monitor Ed è andato al cesso Alle 20 e 40 È andato al cesso Forse è meglio Così Ma non sono interrotto Tanto Poi sentirà La registrazione Il problema non esiste Allora? Peremmente A ostentare All'ennesima potenza La sua Oterosessualità Si andrebbe Sulla quantistica Biviale Omo-etero Cioè non ho capito Qui non si parla di Cioè lui esalta La sua eterosessualità È diverso Lui esalta La sua eterosessualità Dice addirittura Di essere Orgoglioso Della sua eterosessualità Ma quando mai Guarda se non è gay Lui Non lo so Nanch'io E nessuna Provincia di Lecce Giuseppe Ti posso dire Che si può essere gay Addirittura Checchè Senza essere mai stato Con un uomo Senza Aver toccato Mai una minchia Ma nel cervellino Lui lo è Si deve accettare No Maesso come fai a dire questo È in sua assenza Tra l'altro È andato È andato in bagno Come fai a dire In sua assenza Mi risponderà domani Anche in privato Cioè secondo te Uno che esalta troppo La sua eterosessualità Come fai Certamente sì 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 Non lo so Guarda Non posso Non posso dirti niente Io ammetto per esempio Di avere un'anima Votro padre E poi Sono i peggiori Quelli Perché poi No non ho capito il padre Non ho capito il padre A tardità Sono i peggiori Perché a tardità Quelli saranno tutti Ulcerosi Non ci piove Per carità Io non voglio Che lui venga A fare coming out E sono gay No Però Bene Però Questa è una misura Qui si va Sulla quantistica Ma una misura di cosmo Una quantistica Che c'entra la quantistica Non ho capito bene C'entra 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 Ma potrei dirlo anche di te Io allora Potrei dirlo anche di te Ma lo sto dicendo Mi sto esponendo Perché tu sei Tu sei omosessuale Non ho capito Ma guarda In apertura ho detto Se non è gay Non lo sono Nemmeno Ah io ho capito No ho capito In Italia non ci so Non c'entra la quantistica Non c'entra la quantistica Non c'entra la quantistica Non c'entra la quantistica Ah ho capito Dunque tu sei gay Tu sei gay No no Ne ho una colpa Ne ho un pregio Ne ho un difetto Ma non ho detto niente Ma figurati Ma tu puoi fare quello che ti manca Ci mancherebbe Ci mancherebbe Scusami Egidio Tu nella tua omosessualità Sei più attivo o passivo Ecco Sta cosa no Sta cosa mi stizza anche Questa cosa Trent'anni fa Questa domanda No non si steva E va bene Infatti te la faccio adesso Sei attivo o passivo Non è che se io Nello spompino Io sia Sia etero Ciò vuol dire Che quel cazzo non mi piace No ma questo va bene Io ti sto dicendo Sì però Però ci sono Scusami calmati Calmati Egidio Attivo o passivo Non esiste Sto discorso E' assurdo E' demenziale Ma non è vero Ma non lo dico Te lo dico Egidio Perché poi alla fine Ci sono sempre Delle specializzazioni Ci sono Ma lo so che ti tocca È sempre un rapporto uomo E io Sì però io me lo do Io sono più attivo Ma che cazzo c'entra Tu sei attivo Con quello che non ti piace Ma se trovi uno Con una grande minchia C'è sicuro Che lo prendi in bocca Ma ho questo d'accordo Però Al di là di questo Che questo è vero Però io attivo Non è che dico Cioè non è che passivo Significa Cioè attivo Significa non prenderlo in bocca Io dico Un gay Attivo Può prendere in bocca Ma non lo prende dietro Ci sono un sacco di gay attivi Che lo prendono in bocca Ma non lo prendono Ma dipende dalle situazioni Però mi sembra Sì è vero È vero Mi sembra di capire Agito che tu comunque Così a intuito Sei passivo Diciamo che lo prendi in culo Tranquillamente senza problemi Diciamo la verità Diciamola tutta Non ci allarghiamo molto Allora C'è tanto Io ti dico Con la mia età 71 anni Vai domandola Voto Io supero Forse i rocci Su freddi Ma naturalmente Io vado Ok Io ho avuto Molto più pompini Moltissimi pompini No Ho avuto Sempre compagni Quasi fissi No Eh Quasi fissi Sì Però di fatto No Se io vado Con quarantenne Eh Un pompina O stranzarmi più di lui Eh Chiamatemi Ruggero Ti prego Chiamatemi Ruggero Ho detto una cosa Chiamatemi Ruggero Non ce la faccio Chiamatemi Ruggero A molte avventure Solo se super dotato A molte più occasioni Diciamo cielo Diciamolo Che ti devo dire Diciamolo Diciamolo Solo se Il tuo è un po' Sarcasmo No Ma figurati Ma Su questa Non potrei scrivere Dei trattati Su questa situazione Ricapitoliamo Come direbbe Parenzo Ricapitoliamo la situazione Tu hai 71 anni Che dicono Non ho figli Una piccola parentese Tutti i miei compagni Sono sposati con figli Allora Ricapitoliamo Aspetta Ricapitoliamo la situazione Egidio da Lecce Omosessuale Di Anche se l'etichetta Non valgono un cazzo Comunque Gay Di 71 anni Giusto? 72 puoi dire 72 Super dotato Mi sembra di capire Tu l'hai detto Tu l'hai detto Tu l'hai detto Prima Sì Sì Aspetta Aspetta bello Aspetta bello Se uno c'è Se uno c'è 30 centimetri Se uno c'è 30 centimetri Ed è un vestito Malfatto Quello fa schifo Se uno c'è 15 centimetri Questo è quello Quello è un lauto cazzo Bisogna vedere No? Lui ce l'ho tanto Non va a centimetri Sta cosa E a che va E a che va E a che va Sono un piccolo estete La forma La forma Qui c'è una persona Non andiamo Ai colli di Modigliani Quel collo è così 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 Però Io non mi occupavo Mi sono qua Nella mia vita Di arte Di guardiografiche Sono un piccolo estete Tu li usi Li usi I sex toys Li usi? Ma sei scemo Ma che ne so Ma non è che ti ho detto Che usi le pistole Della mafia Ma questi discorsi Ti puoi fare Con quelli Che chi Ne sgallettate Di venti anni Non mi toccare Che si truccano Io fisicamente Sono maschio Cioè Baffi Qua là No Senti Non ho capito Tu sei Allora Per te Non piacciono le donne Aspetta Io sono stato anche con donne Però non dico Sono bisessuale Poi la forma più assurda Che mi schizza Quando dicono Che sono bisessuali Per me non esiste O ti piace il cazzo O ti piace la figlia Questo è vero Le misure Non vanno Non vanno Assolutamente Allora Aspetta Fermo un attimo Fermo un attimo Sono venuto con te Sì è giusto È giusto Sì è giusto Sì sono venuto con te Per un'esperienza La prima volta Oh vaffanculo Poi mi chiedono a me No io dico Sono sincero Non è la prima volta È la terza volta O mettendo tutti Quanti gli altri zeri Ma ti vanno Vanno a fregare Giusto Giusto Allora Però per qualche secondo Devo dare la parola Per un giudizio finale Sulla tua figura Su quello che hai detto Naturalmente a Maurizio Ruggero Che è il nostro Super cattolico di riferimento Maurizio hai sentito? Sì Ho sentito una valanga Di metafore stercorari Di parolacce Di questo tipo No che parolacce Che parolacce Questa persona Ha bisogno secondo te Di confessarsi Ha bisogno di redimersi Altrimenti va all'inferno Basta solo il linguaggio Solo quel linguaggio Sboccato lì Il linguaggio sboccato Certo 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 Il turpilo Che è un peccato Figuriamoci No voglio capire Lui dice di essere Omosessuale Di essere anche Un po' super dotato Dice di essere In realtà Di praticare la sodomia Su larga scala Eccetera Eccetera Di essere anche orgoglioso Di cosa ha bisogno? Di tutto Ha bisogno Di tutto Di confessarsi Per la sodomia Che è uno dei quattro peccati Che rida vendetta Al cospetto di Dio Un disfiguriamoci Poi Sul turpilo Non esiste il minimo dubbio E sul resto Figurati quanti altri Ne avrà commessi Ti senti un peccatore Ti senti un peccatore Egidio? Non lo so Per questo signore Io Eh questo signore Si chiama Maurizio Ruggero Associazione Associazione Non mi ricordo più Che è Sacro Romano Imperio Di Verona Non importa che sia Da peccatore Lo è oggettivamente Egidio Ha detto che sei un peccatore Dovresti confessarti Eccetera eccetera Come vuoi rispondere? Secondo me Questo è un vero Represso L'hanno già detto Che è Represso Ho 72 anni Non ho visto tutti i colori Sono stato all'estero Questo secondo me È un diere Chi è lui A giudicare me? Questo l'ha detto il Papa Ruggero? Giudice il Padre Eterno E meglio che si mette A posto prima Senti Un giudice 10 secondi Sex toys Per te Che cosa sono i sex toys? Beh dunque Dalla traduzione inglese Vuol dire giocato Sì no Questo lo sappiamo Ma per te Che cosa rappresentano? Il diavolo Satana Che cosa rappresentano? Rappresentano Le tante perversioni Che si possono oggi Adottare In una umanità Senza Dio Evidentemente Figuriamoci Se uno fa queste cose qua Si va Con una propria moglie Evidentemente Dunque i sex toys Anche tra marito e moglie Anche tra marito e moglie Non sono consentiti I sex toys Evidentemente Cioè Tu devi avere una relazione Che è finalizzata L'appropriazione E con questo Ragazzi devo concludere Italiani Italiani Voi ci dovete far bellicare Che noi lavoriamo di brutto Fino alle sette e mezza Le otto Non si farà lasciare Lo dica Lo dica A voce alta Chi sente la zanzara Vuole sbellicarsi Quando sono al castello Di Carisio Voglio ridere Ridere Sono pronte Per essere Munte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti